Salve a tutti, anche a noi dico scusate il ritardo, l'unico modo per poterci mettere un po' in pari col tempo è da qua sopra, cercheremo di farlo per esempio provando a trasformare una delle giornate più sfigate diciamo della settimana tipo questa, cioè il lunedì, in una giornata leggermente più appetitosa, vale dire Grazie 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 Grazie